Sarebbe un mondo migliore? Io lo farei migliore, sicuro. Ma devi partire tu col concetto di fare migliore il tuo di mondo, non devi aspettare gli altri. Ma il mio mondo mi sta da Dio. È comodo aspettare gli altri. No, io non voglio aspettare, io voglio comandare. Eh, lo comanda. Ah, direttamente? Direttamente. Hai capito? Eh, io vorrei comandare. Comanda allora. Comanderai Gallo da un'ora in poi, da domani comanderai Gallo. Assoma posti.